Benvenute, benvenuti. Questa è una meditazione per invocare pace e guarigione nella zona di Israele e Gaza, Cisgiordania, nel 2023. L'iniziativa è stata avviata dagli amici di LL Research negli Stati Uniti e ci stiamo ritrovando ogni giorno alle 17 ora italiana dal 4 all'11 novembre. Sentiti libera e libero di connetterti in qualsiasi altro tempo al campo di coscienza, offrendoti come canale per la pace. Cominciamo naturalmente chiudendo gli occhi e facendo qualche respiro profondo. Invochiamo la presenza della vita e dell'amore a riempire e purificare lo spazio in cui ci troviamo ora per un minuto. Grazie a tutti. Invochiamo la presenza dell'amore e della vita a riempire e purificare lo spazio dentro di noi per un minuto. Grazie a tutti. 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 nel momento presente, onoriamo adesso tre minuti di silenzio, creando uno spazio sacro qui e ora. Grazie a tutti. 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 Apriamo uno spazio di gratitudine nei nostri cuori e sigilliamo questa opera focalizzandoci sulla perfezione di tutte le cose, sul mistero della vita che attraverso il conflitto genera sempre nuova pace, per un minuto aprendoci a questa visione di perfezione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.